Il pomeriggio tranquillo della vittoria del Juventus a Reykjavik in Islanda dopo il 7-0 dell'andata. Una doppietta a testa per la coppia straniera. Comincia Platini nel primo tempo e porta in vantaggio la Juventus. Poi seguono in sequenza due gol del danese Mikael Laudrup. Ecco il primo che fisso il punteggio sul 2-0, quasi dal dischetto del rigore segna Laudrup. E poi ancora lo stesso Laudrup su azione che viene impostata dalla sinistra realizza il terzo gol. Poi nella ripresa, dopo che Briaschi si è consentito il lusso di fallire un calcio di rigore, il gol di Platini.